Messaggio della Beata Vergine Maria Alla sua amata figlia Luz de Maria 7 settembre 2011 Amatissimi figli del mio cuore immacolato vi benedico. Il mio ventre è fonte di benedizione per tutta l'umanità, vi amo. Vi chiamo a camminare in unità con la parola del figlio mio, vi chiamo a mantenervi nel mio cuore immacolato, io vi proteggo. Riceverete la grande benedizione della Trinità quando di mia mano sarete presentati davanti a Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo, per l'opera pienamente compiuta da parte di ciascuno di voi, uomini e donne missionari, specchio dell'amore della Trinità. Miei amatissimi in tutti i tempi ho vagato annunciando quello che sarebbe successo, denunciando ciò che ancora non è giusto, avvertendovi di correggere il cammino. Il mio passaggio non è stato in vano. I miei figli rivolgono amorosa attenzione alla mia parola, ma manca ancora un gran numero di essi che rimane volontariamente nell'oscurità. Venite a me, il mio ventre alberga tutta la creazione. Il mio ventre custodisce tutta l'umanità. Venite a me. Non disprezzate più il mio richiamo amoroso. Volgetevi prontamente a correggere il cammino. E disponetevi alla conversione in questo preciso istante. Miei amatissimi non dimenticate che il tempo non è tempo, che vi state dirigendo verso il compimento del grande evento in cui confluiscono tutti i miei richiami. Il compimento di un atto di misericordia della Trinità verso l'uomo in questo istante, che è il grande avvertimento. Con quale attesa l'uomo parla del grande avvertimento? Quante riflessioni su quest'atto di misericordia divina, e questa generazione lo vivrà il peccato ha superato tutti i limiti immaginabili. E il tempo, che non è più tempo, ha fatto scendere la mano del Padre. Perché non si perdano più anime? I giusti si sentiranno felici e i peccatori soffriranno moltissimo. Così, nella stessa misura in cui hanno peccato, soffriranno durante il grande avvertimento, di fronte allo specchio personale della propria volontà male impiegata. L'umanità sorride, festeggia, si diverte, e in cielo. Gli angeli piangono il destino di questa generazione. Grandi tribolazioni si preparano proprio per voi? Non comprendete che gli atti malvagi attirano la sventura su tutta l'umanità. La luce quasi non si percepisce più, la luce della grazia quasi non si percepisce più nell'umanità. L'oscurità diventa ogni momento più potente, è ingigantita dalla mente peccaminosa, dal pensiero peccaminoso, dall'operare e agire peccaminoso dell'uomo, che non vuole correggersi. Mie amatissimi! Rispondete al mio richiamo! Dovete, dovete affrontare l'uso del libero arbitrio, che è in voi. Questa generazione purificherà se stessa, non perché questa sia la volontà della Trinità, ma perché tutto ciò che è creato dalla mano del Padre reclama una immediata purificazione prima che le anime che ancora rimangono fedeli si perdano. Vi benedico infinitamente. Vi chiamo a non vacillare nella preghiera, a nutrirvi del corpo e del sangue del figlio mio, a rimanere nella preghiera, a offrire dolori e gioie come espiazione del peccato di tutta l'umanità. Non pensate più in maniera egoista, estendete la preghiera a tutta l'umanità. E con il sangue preziosissimo del mio divino figlio, coprite tutte le creature umane. Vi invito a non scoraggiarvi di fronte al gran tremore della terra, che presto causerà gran dolore agli uomini. Vi invito a pregare con tutto il cuore per la mia amata California. Vi invito a pregare ferventemente per il mio amato popolo messicano. Vi invito a pregare costantemente per la mia amata terra italiana. Figli miei, figli del mio cuore immacolato. Rispondete, rispondete al mio richiamo, non rifiutate più questa madre, che in questo momento vi chiama, vi avverte, vi ama. Il mio avvertimento è amoroso verso coloro che amo, verso di voi, miei amati figli. Siate perseveranti, non chiudete le orecchie alla mia voce. Guardate ciò che succede. Quanti segni scendono dal cielo perché voi vediate l'avvicinanza di ciò che verrà e che è stato già profetizzato. È scritto che dall'alto verranno segni, che dalla terra usciranno segni, che dall'acqua si leveranno segni ed annunciare la prossima fine della generazione, attraverso una grande purificazione. Mie amatissimi. Datemi la mano, permettetemi di condurvi sulla via della verità. Non ascoltate false profezie, che parlano della dissolutezza. Continuate a restare aderente alla parola divina, non tutto è dolore, ma non tutto è felicità. Quando la creatura umana pecca, attira su di sé il dolore, quando cammina nella grazia attrae su di sé la beatitudine. E qual è il termometro di questa generazione, abominio, peccato, mancanza di rispetto, immoralità, impazienza, bestemmia, disobbedienza? Non ignoro il fervore, la costanza, la pazienza, la fede, il rispetto, la preghiera, la comunione di coloro che rimangono fedeli al figlio mio. Ma con dolore devo dire che sono pochi, dato che maggiore è il peccato. La parola divina deve condurvi ad aumentare la certezza, che l'amore e la fede di pochi faranno risorgere purificato il popolo di Dio. Siate perseveranti, consacratevi costantemente al mio cuore immacolato. Andate ad accompagnare il figlio mio presente nel tabernacolo. Rendetegli rispetto, adorazione e gloria, amatelo per coloro che non lo amano. Di benedico, rimanete nel mio cuore. La mia mano rimane davanti a ognuno di voi. Prendetela, io ve la offro. Madre Maria